Un anno di satira, è stato un lavoro difficile o possiamo dire che qualcuno te l'ha servito un po' su un piatto d'argento? Beh, oddio, un po' difficile perché c'è stata la guerra, quindi quando è arrivata la guerra un po' ho dovuto fermarmi, ho dovuto fermare un attimo, però poi, diciamo, gli spunti non mancano molto. Senti, dalla pagina social, teatro, libri, i prossimi obiettivi? Un calendario, i prossimi obiettivi? No, c'è il teatro, c'è la seconda stagione della serie, il dv, e già così basta. Senti, siamo a Terni, Boscio avrebbe una frase per Umbria Libri, per questa città? Oddio, per Terni mi cogli un po' il preparato. Non avevi studiato? Non ho studiato, oggi l'avevi detto di spiegare.